Ciao ragazzi, ancora dal Mobile World Congress di Barcellona, lo stand Acer, questa volta vi proponiamo l'update della soluzione software di Acer, ovvero Acer Xtend, che permette tramite la tecnologia Wi-Fi Direct di riprodurre lo schermo del nostro smartphone in real time sul nostro laptop, che può essere, c'è stato detto, di qualunque marca, mentre il dispositivo deve essere ovviamente di marca Acer. Per quanto riguarda le funzionalità, ci permette di trasferire le nostre immagini tramite condivisione su Acer Xtend direttamente sul laptop, tale funzionalità che è immediata vale anche nel momento in cui vogliamo trasferire documenti dal laptop sul nostro smartphone. Abbiamo trovato questa funzionalità davvero interessante e che può essere utile per dei trasferimenti immediati senza l'utilizzo di alcun tipo di cavo. Per ora è tutto, ci è sembrata una funzionalità davvero interessante che speriamo di provare in modo più approfondito quando ci arriveranno i device da parte di Acer. Un saluto da Fabio e Samuele da Spazio Etec.